buongiorno amici buongiorno amiche oggi facciamo un unboxing di questa dashcam di questo brand che si affaccia sul mercato già saturo delle dashcam che però lo fa con prezzi aggressivi e qualità non cheap vediamo un po cosa ci hanno mandato io già lo so mi hanno mandato questa dashcam per audi infatti è questa dashcam è fatta proprio per essere montata sulla mia audi è la plastica va del colore può essere nero ma anche crema o grigio a seconda degli interni della vostra auto vedete naturalmente il modello varia a seconda della vostra auto quindi una volta che comprate dovete stare attenti a scegliere il modello della vostra auto e il colore in base al in base agli interni della vostra auto questa vedete si attacca tra lo specchietto e il vetro si alimenterà con la luce di cortesia e poi le immagini andranno a finire qua nella sd e da qui ci sarà una parte dei comandi c'è da dire comunque che viene comandata tra virgolette attraverso un'applicazione per smartphone vediamo un attimo cosa c'è in confezione c'è il manuale in inglese io l'ho già sfogliato è chiaro e sono indicate è indicata l'applicazione necessaria per comandare la dashcam poi ci sono gli attrezzi per montarla come dicevamo davanti allo specchietto tra lo specchietto ed il vetro ma è fatta di una misura tale che si adatterà perfettamente quindi non è una telecamera universale ma è fatta appositamente per la vostra auto quindi apparirà come se fosse stata come se fosse come se voi l'aveste già comprata con questa montata perché della della misura perfetta del colore perfetto e poi qui il resto della cavetteria che è necessita per per montarla naturalmente varia a seconda della vostra auto e del modello di cam che avete che avete ordinato quindi adesso vi metterò in descrizione il link aliexpress a me è arrivata in 15 giorni senza dogana e anche il loro il loro sito sono molto svegli quindi se avete dei dubbi delle domande rispondono velocemente questa è una cosa che ho che ho apprezzato direi che per adesso è tutto l'unboxing è finito adesso valuterò se montarla sulla mia sulla mia audi e comunque intanto ecco un qualcosa l'abbiamo fatto ciao ciao